Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Garmont Tower 2.0 GTX, uno scarpone da trekking impegnativo alpinismo di casa Garmont che ha veramente delle feature molto interessanti, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come solito da qualche caratteristica tecnica fornita direttamente da Garmont, per quanto riguarda la suola troviamo una Vibram Apex. L'intersuola ha un sistema double damper per migliorare l'assorbimento degli urti, una membrana Gore-Tex per quanto riguarda l'impermeabilità e il tutto per un peso di 650 grammi a scarpone nella taglia 42. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito con la suola, come vi dicevo qui troviamo una Vibram Apex, ovvero una suola abbastanza dura ma comunque dall'ottimo grip. Ha un buon grip su tutto quello che è naturalmente il sentiero classico, terreno battuto, ma anche su quella che è roccia e anche roccia bagnata. Devo dire davvero uno scarpone utilizzabile ad alta quota con un ottimo grip su tutto il mondo della roccia. Dove non ha magari un ottimo grip, non si difende proprio bene è sulla parte di fango, sul fango avendo tutti questi tasselli e non essendo neanche molto alti come spessore dello tassello lì tende un pochino a scivolare. Ma per il resto vi assicuro uno scarpone che ama particolarmente la roccia. Passiamo a parlare dell'intersuola, qui troviamo un'intersuola come vi dicevo con sistema double damper. Questo sistema praticamente fa sì che questo scarpone assorba molto bene gli urti quando andiamo a camminare. Infatti anche utilizzato in delle escursioni veramente lunghe di 10-12 ore io sono tornato alla macchina senza avere il piede particolarmente stanco. È un'intersuola poi semirigido con tutti naturalmente i suoi pro e i suoi contro e nella parte posteriore troviamo anche all'inserto tinti più per poterlo ramponare. Quindi volendo con questo scarpone possiamo fare anche da alpinismo ma dopo ne parliamo. Arriviamo poi a tutta la parte superiore della tomaia iniziando dal puntale. Beh qui troviamo un puntale veramente molto rigido di quelli che anche se tirate un calcio contro una roccia non sentite nessun dolore alla punta dei piedi. Per quanto riguarda poi tutto il resto della tomaia è fatta in materiale sintetico, è molto traspirante, è davvero molto traspirante, di contro poco termico. Per intenderci io ci sono arrivato fino agli 0 gradi avendo comunque un pochino freddo, dipende molto poi anche da voi se siete calorosi, freddolosi, dipende dalla calza che utilizzate. Però secondo me è uno scarpone che diciamo che come 0 gradi lo utilizzerei a temperatura al limite. Se invece doveste aver bisogno di uno scarpone che vada sotto gli 0 gradi esiste la versione extreme di questi tower che hanno un'imbottitura maggiore che vi permettono di andare sotto 0. Diciamo che è uno scarpone magari più 3 stagioni dove la terza stagione è l'estivo e non l'invernale. Nella parte posteriore poi parlando di tallone qui troviamo un sistema lock, ovvero quel sistema che va a serrare perfettamente la parte posteriore del nostro piede. Infatti una volta che andremo a serrare i lacci il piede non si muoverà all'interno e lo scarpone sarà un tutt'uno con il nostro piede. Davvero un ottimo sistema che ci permette di poter affrontare anche dei terreni particolarmente tecnici e duri senza nessun problema. Per quanto riguarda poi il collare del piede naturalmente lo scarpone è alto, va sopra al malleolo e soprattutto la parte superiore comunque è bella imbottita e non ci dà nessun problema anche quando andiamo a camminare col piede un po' di traverso. Parlando invece di linguette lacci, la linguetta è classica, una linguetta che isola bene dei lacci e resta ferma quando camminiamo. Lacci fatti molto molto bene che arrivano fino in punta così da avere una lacciatura molto precisa e poi mi piace sempre che il primo passalaccio inferiore è autobloccante e ci aiuta nell'andare a serrare poi la parte alta del collo del piede. Sulla linguetta poi si vede che è particolarmente accentuata nella parte interna ma questo lo troviamo su tutta la scarpa perché questo scarpone utilizza il sistema Ergolast in cui lo scarpone destro e lo scarpone sinistro sono stati pensati apposta per andare ad alloggiare rispettivamente il piede destro e il piede sinistro. Quindi troviamo proprio degli scarponi che hanno già la forma preformata di un piede e che appunto hanno delle migliorie sulla parte interna del piede così proprio da poter garantire un miglior comfort di calzata e di camminata. Per quanto riguarda la soletta, qui troviamo una soletta proprietaria di Garmont, nel particolare la Silver Comfort. Io devo dire che mi ci sono trovato molto molto bene, è sostituibile volendo ma io andrei avanti a utilizzare quella nata in dotazione perché appunto mi ci sono trovato molto bene. Per quanto riguarda la calzata, quindi di spazio nella parte anteriore dello scarpone, non è uno scarpone particolarmente stretto. Ha una calzata possiamo dire abbastanza normale in cui se avete un piede particolarmente grosso dovrete sicuramente optare per prendere mezzo numero o un numero in più. In generale comunque io ho preso il mio solito numero che prendo per tanti altri scarponi e non ho avuto problemi di grandezza d'avampiede. Ma detto ciò arriviamo a capire a chi consiglio questi Garmont Tower 2. Secondo me è un ottimo scarpone un po' per tutti, sia per chi si sta avvicinando al mondo del trekking impegnativo o alpinismo, perché comunque avendo un comparto dell'intersuola suola semirigido ci comunque garantisce un'ottima camminabilità senza costringerci come magari uno scarpone rigido. Ha un utente esperto che invece magari sta cercando uno scarpone bello tecnico con cui poter fare anche delle vie particolarmente difficili. Devo dire che è uno scarpone abbastanza a tutto fare, a tutto tondo, lo si può utilizzare in tantissimi ambiti che vanno dall'escursionismo al trekking impegnativo, al semplice alpinismo e lo può utilizzare un po' chiunque senza nessun problema. È davvero uno di quegli scarponi che, comprati oggi, vi dureranno tantissimo nel tempo, ma soprattutto vi permetteranno di poterli utilizzare in tantissimi tipi di escursioni. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni parlando anche del prezzo. Questi Tower 2.0 GTX sono venduti a 320€ sul sito ufficiale di Garmont. Online si trova tranquillamente sui 220-230€. Ve li consiglio, sì. Sì, perché secondo me, come vi dicevo, è davvero un ottimo scarpone un po' tutto fare. Ho acquistato questo, davvero potremmo utilizzarlo in tantissimi tipi di escursioni e comunque i materiali sono veramente, veramente ottimi. Fermo restando poi, come vi dicevo, che se invece state cercando uno scarpone più termico, esiste sempre la versione Extreme, che costa un pochino di più, ma vi garantisce anche un maggior calore durante l'utilizzo. E detto ciò, ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esattivo anche per questa recensione, vi ringrazio l'ho guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!